...realizzazione, con cui poi sentirete anche brevemente la storia, perché per tanti anni è stato un desiderio e compiuto. Per questo strano, difficile, o anche incredibile, ma anche affascinante cammino che sto percorrendo insieme a chi condivide con me l'amministrazione della città, devo dirvi che questo è un risultato di grande pregio. C'è tanto lavoro dietro questa innovazione, è una partita che si è aperta tanti anni fa, come tante altre che sapete sono in corso, non tutte purtroppo andate a buon fine in questa quotidiana scommessa e sofferenza che viviamo, però questa è una bella vittoria. Corona, il lavoro degli assessorati che si sono succeduti, ricordo l'ingegnere Bella e adesso probabilmente l'assessorato che ricorre, gli uffici che hanno lavorato instancamente e la scelta fatta, che all'inizio poteva indubbiamente sollevare delle capacità e far discutere, è quella di ricorre a questo tipo di soluzioni e che invece mi ha personalmente molto molto soddisfatto.